. Uomini e donne, Claudio Sona e Juan Sierra insieme? L'avvistamento. Claudio Sona di Uomini e Donne e Juan Fran Sierra in vacanza insieme? . Non c'è niente da fare. Difatti, dal momento in cui Juan Fran Sierra ha rivelato di aver avuto una relazione con Claudio Sona durante e dopo il trono gay di Uomini e Donne è successo il finimondo. Il motivo? In pratica molti telespettatori si sono sentiti presi in giro e si sono riversati sui social per esprimere tutto il proprio malcontento. . E a quel punto è intervenuta anche la redazione del famoso dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, diramando un comunicato stampa, con l'obiettivo di buttare acqua sul fuoco. Ma nemmeno il loro intervento è servito a nulla. . E da quel momento il noto tronista ha preferito trincerarsi dietro a un fragoroso silenzio. . Motivo per cui il giornalista Alberto Dandolo ha intrapreso una vera e propria battaglia sul web per chiedergli la cortesia di dire finalmente tutta la verità. Ma non è finita qua. . Uomini e Donne, Claudio Sona e Juan Franciera sono tornati insieme?. . . Difatti, un'indiscrezione circolata nelle ultime ore sui social ha infiammato nuovamente gli anni. Andando nel particolare, come riportato dal blog Il Vicolo delle Neves.it, a quanto pare Claudio Sona e Juan Franciera starebbero passando le vacanze nello stesso momento a Mykonos. . Finita qua? Nemmeno per idea perché sempre l'attento blog ha anche notato che il modello di Dolce Gabbana, proprio in queste ultime ore, ha iniziato a seguire su Instagram Mario Serpa. . In pratica pare davvero che questa faccenda stia prendendo una piega del tutto inaspettata. . . Cosa sta succedendo? L'extronista di Uomini e Donne e Juan sono tornati insieme? Com'è possibile che i due stiano passando le vacanze negli stessi giorni a Mykonos? E perché Juan ha iniziato a seguire Serpa? Queste e tante altre le domande che molti fan si stanno ponendo in queste ore su social. . . Verrà fatta presto chiarezza? Insomma, dopo la rivelazione shock di ieri, ecco arrivare questo ennesimo colpo di scena. .